Wall Street Italia con Alessandro Marolda, Senior Consultant Portfolio Research and Consulting Group di Natixis Global Asset Management. Dottor Marolda, negli ultimi anni Natixis Global Asset Management ha sviluppato un proprio barometro. Ecco, mancano poche settimane a diffusione dell'ultimo numero del barometro 2016. Quali sono le indicazioni che stanno emergendo dall'analisi delle risposte degli investitori che può dare in anteprima per Wall Street Italia? Assolutamente, grazie mille. Ecco, una cosa che è molto importante per noi è capire qual è il ruolo all'interno del portafoglio da parte di ciascun sottostante che possa essere un fondo, un ETF, un titolo single. Ecco, recentemente è uscita una cosa molto interessante, ovvero che gli investitori italiani stanno utilizzando gli alternative come riduttori del rischio. E questo è uno spunto molto interessante perché ecco, naturalmente uno quando pensa magari alla parola alternative, pensa ecco all'edge fund o una cosa magari un po' rischiosa, la realtà è che la maggior parte di questi fondi hanno una volatilità abbastanza contenuta e anche una correlazione abbastanza bassa con i portafogli e l'asset tradizionale che è l'equity e l'obbligazionario. E quindi noi l'alternative lo riteniamo un riduttore del rischio all'interno del portafoglio ed è interessante che l'italiano medio lo stia utilizzando in tal modo perché? Perché abbiamo notato che il 22% del portafoglio prudente è composto dagli alternative, mentre quando andiamo a vedere altri profili, per esempio il moderato o l'aggressivo, tendono ad essere meno allocati nell'asset class alternative. Dottor Marolda, come stanno reagendo gli investitori italiani alla forse quella che è la più grande sfida dei mercati del momento, ossia il fatto che i titoli obbligazionari, titoli di Stato ma anche mondo corporate di fatto hanno dei rendimenti che sono prossimi allo zero. Come stanno modificando la loro asset allocation? Questo è un momento molto delicato chiaramente per questo motivo qui ed è una situazione unica direi perché non è mai accaduto un momento in cui tutte le obbligazioni stanno o quasi a zero o in termini di rendimenti addirittura negativi. Quindi come stanno affrontando questa situazione gli investitori abbiamo notato che all'interno delle obbligazioni gli investitori si stanno spostando più su fondi flessibili, più sull'obbligazionario flessibile e quando notiamo anche i singoli titoli all'interno dei portafogli notiamo che sono più allocati su inflation linked e anche su tasso variabile perché stanno cercando di proteggersi da un possibile incremento nei tassi di interesse ma anche dall'inflazione. Mentre abbiamo notato che generalmente c'è stato uno spostamento fuori dalle obbligazioni di breve maturity sulle maturity un po' più lunghe per cercare un po' questo rendimento un po' più elevato e anche sull'alternativa anche che come detto prima può essere vista come un'alternativa all'obbligazionario essendo un riduttore del rischio.